allora per dieci minuti sarà ancora il mio complanno si può dire per dieci minuti sarà ancora il mio complanno si può dire sette minuti scusate quindi per ancora e per altri anzi e non ho interrotto sicuramente cioè di certo perché non riusciva ad esprimermi ma perché sono in camera con due maschietti e stavano facendo una cosa strana detto ciò vi stavo dicendo che per altri in questo momento sei minuti è il mio compleanno e quindi colgo l'occasione per ringraziarvi tutti 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 tantissimissimi simi tuttissimi tutti tanti tutti per gli apuri che mi avete fatto tuttissimi davvero si tuttissimi è un mix tra tanti e tutti il flamber ma qual è il numero no a parte gli scherzi raga grazie perché mi avete scritto in tantissimi non riesco a ripostarvi tutti perché poi mi insultate faccio troppe storie sono pesante e soprattutto la mia migliore amica che le salta di continuo per me è una grandissima ciappopon dispiacere quando l'area lo fa ecco e anche su whatsapp volevo scusare con i miei amici mia sorella cioè sto facendo fatica a leggerli tutti anche lì e ma arriverò cioè prima o poi vi ringrazierò tutti promesso no è stato veramente bellissimo perché a ragione filippo mi vogliono bene un sacco di persone e questa è veramente una cosa un valore aggiunta alla mia vita ecco sono molto fortunata quindi grazie perché è ancora il mio compiliano a chi ancora non me li ha fatti ancora in tempo appunto è perché mancano cinque minuti precisamente sto guardando ora l'orologio no scherzo quelli che dovevano arrivare sono arrivati tutti e quelli che non sono arrivati va bene così grazie grazie